Eccoli, altri tre, altri tre protagonisti. Io devo andare. No, una parola su questa partita, dai, su, su. Zero su tre da tre. Zero su tre da tre, bene, però anche loro... Miglioramenti sono visti. Io l'ho messo. Miglioramenti sono visti. Abbiamo attaccato bene a Zora qualche errore, però ci sta. Cerchiamo di migliorarci. L'avvocato non mi fa dire... Va bene. Non posso parlare. Allora, dai, una parola su questa partita. Eh, abbiamo giocato bene. Sì? Tutto qui? Sì, 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 sì. Abbiamo giocato bene e di squadra siamo riusciti a battere la zona, anche se sapevamo che era difficile. Grazie, buona domenica.